. Daniele Bossari dopo la vittoria al GF VIP, prime commoventi dichiarazioni. Grande fratello VIP, Daniele Bossari, prima parole dopo la vittoria. . Daniele Bossari alla fine è riuscito a vincere la seconda edizione del grande fratello VIP. Su social, i suoi sostenitori azzardano a parlare addirittura di un vero e proprio miracolo, d'altronde Giulia Delellis è sempre stata la favorita. . In ogni caso, alla fine, i telespettatori hanno deciso di premiare la storia del conduttore. . All'interno della casa più spiata d'Italia ha affrontato tutte le sue più grandi paure, facendosi conoscere perciò che è anche nella vita reale. . In questi mesi, abbiamo anche visto la purezza dell'amore che da circa 17 anni lo lega a Filippa Lagerbach, a cui ha chiesto di sposarlo proprio a Tristopol, dove la sua avventura è cominciata. . Dopo l'allunga e emozionante finale, Daniele ha trascorso la notte con la sua compagna e sua figlia Stella, per poi prendere un treno che lo riportasse a casa questa mattina stessa. . Daniele Bossari, primo messaggio social dopo il grande fratello Vip. . 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 Attraverso i messaggi che mi arrivavano direttamente dal cielo con gli aeroplani. Settimana dopo settimana mi avete permesso di evolvermi e di questo ve ne sono profondamente grato. Ho battuto i miei demoni, ho cacciato fantasmi. Ho vinto grazie a voi. Adesso mi metterò a leggere le vostre parole, ad assorbire tutto l'amore che mi avete inviato. Avevo bisogno di dirvelo e abbiamo vinto. .